Conclusa la regular season, i play-off per l'Ishasko, ora è tempo di sistemare il roster per la prossima stagione. Quali sono le principali novità fino ad ora? Fino ad adesso abbiamo potuto contattare e poi anche contrattualizzare il nostro primo americano, che è Kadim Lattin, che è un ragazzo importante per noi, perché ci consente di fare alcune cose in attacco e in difesa. Un ragazzo di 2,8 metri, nativo di Houston, insomma una persona che abbiamo cercato negli ultimi due o tre mesi, sapevamo che avremmo potuto nel proseguire la collaborazione magari cambiare alcune cose del nostro roster in quel ruolo. Brandon credo che voglia andare a giocare da un'altra parte, l'abbiamo sostituito con Kadim. Abbiamo confermato sostanzialmente Simone Pieric, che per noi era la pietra migliare, l'architrave poggia sempre su qualcosa di veramente importante, lui è questo tipo di cosa importante. Adesso stiamo cercando di puntellare il roster magari con un altro paio di elementi di esperienza italiani che possano consentire a tutti gli altri ragazzi che sono quelli che c'erano, sono quelli che ci stanno e quelli che ci saranno poi di fare una stagione tranquilla anche l'anno prossimo. Capitolo Paul Lebois, il ragazzo, il classe 2000 è dall'altra parte dell'oceano, sta provando, sta facendo i workout con alcune franchigie NBA, aspetterà il draft e poi che succederà? Lo aspettate oppure se rimane dall'altra parte si pensa di sostituirlo o meno? Ma lui è uno dei ragazzi, è in quota ragazzi e quindi di sostituti ce ne abbiamo, magari lui sarà sostituito. Paul oggi come oggi non so dirti qual è lo scenario più probabile, ha fatto benissimo a Cleveland, ha fatto benissimo a Orlando, potrebbe essere scelto da loro, è un meccanismo complesso che non dipende solamente da giochi bene e giochi male, ma dal tipo di scelta che hai, da come la scambi, da qual è il progetto di business che vuoi fare. In questa specie di macelleria sociale siamo entrati anche noi con lui, adesso vediamo quello che succederà. Torna il 10 e con lui anche poi laddove non ci dovesse essere una chiamata ufficiale al draft prenderemo la decisione conseguente.